Autorità portuale, polemica sul bilancio, approvato solo adesso il preventivo 2023 dell'autorità dei porti della Toscana, dibattito in consiglio. Avis, appello per le donazioni, arriva in consiglio regionale l'attività di sensibilizzazione dell'Associazione Italiana Volontari Sangue della Toscana. Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Monitor Consiglio. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, con il voto contrario dei gruppi di opposizione, il bilancio preventivo economico annuale 2023 e pluriennale 2023-2025 dell'autorità portuale regionale. L'approvazione del preventivo 2023 è stata oggetto di polemiche, ma anche l'occasione di un dibattito sull'autorità, anche alla luce dei problemi che sono emersi al porto di Viareggio. Sentiamo le interviste. Il bilancio dell'autorità portuale, bilancio preventivo 2023, giunge all'attenzione dell'Aula all'inizio del 2024. Credo che basti questo, e lo ha detto anche la Presidente della Quarta Commissione, nell'esporre l'atto per capire quale motivazione sta alla base del voto contrario della Lega. È inaccettabile un quadro di questo genere, ma l'occasione è stata importante per aprire un ragionamento su quello che sta succedendo a Viareggio nell'immediatezza dei fatti. Il Presidente Gianni è venuto a Viareggio, ma probabilmente è stato un po' frettoloso nel dare alcune valutazioni positive, perché l'insabbiamento del porto di Viareggio, dell'avanporto di Viareggio, stanno assumendo una situazione di tale gravità per cui i pescatori non sono in grado di lavorare. È due mesi e mezzo per una motivazione o un'altra che già hanno blocchi di attività e incapacità di lavorare per quanto è accaduto. E quindi è necessario, noi l'abbiamo ribadito anche quest'oggi, nel sopralluogo fatto con la Quarta Commissione, che finalmente si porti a Viareggio una draga in grado di lavorare, perché questa non lavora come c'è, un po' d'onda non può uscire, si liberi finalmente nell'immediatezza quello che è il canale che normalmente viene usato per poter entrare e uscire dal porto di Viareggio e si metta in grado di lavorare i pescatori che hanno purtroppo una situazione di grandissima difficoltà, rischiano con le spese che hanno e con le poche giornate di lavoro che hanno avuto a disposizione di chiudere i battenti, tant'è vero che minacciano di andarsene da altre parti e ricordo che la manerineria via Regina è la più importante della Toscana, oppure chiedono addirittura la chiusura e si rischia la chiusura del porto. Dal parte nostra abbiamo chiesto e insistito anche adesso in Aula per aprire un ragionamento in modo da trovare risarcimento e ristori per queste attività, per le imprese, per le cooperative, per le famiglie che oggettivamente vivono di questo lavoro e rischiano di non arrivare più alla fine del mese. Ma un ragionamento più grande va fatto, l'ho detto in Aula poc'anzi, anche con riferimento a quello che è un quadro generale che il porto di Viareggio vive di difficoltà di insabbiamento ormai da troppi anni. Il sabbiodotto è ancora in ritardo e discutendone in Commissione Quarta insieme al Commissario dell'Autorità Portuale si parla di fine 2025 e inizio del 2026. Comune di Viareggio e Regione Toscana che dovrebbero dialogare su un tema così delicato in realtà litigano per le poltrone, tant'è vero che non abbiamo ancora un segretario dell'autorità portuale, c'è solo un commissario, perché non si mettono d'accordo tra Regione Toscana e Comune di Viareggio e questo è ormai da anni che è così. Non si mettono d'accordo sul regolamento portuale, che anche quello è un passaggio importante perché a Viareggio il porto entra dentro la città, regola tutta una serie di elementi di vita della comunità portuale e anche qui siamo indietro sulle risposte e sulla stessa autorità portuale abbiamo una posizione dell'amministrazione comunale via regina assolutamente contraria malgrado un protocollo di intesa firmato da poche settimane. Quindi da parte nostra un forte invito a che questi enti istituzionali tornino a dialogare fra loro in un rapporto di fisiologico, rapporto fra istituzioni appunto, la smettano di litigare, la smettano di guardare ai contenziosi che ci sono, perché sappiamo che sono pendenti, sono stati rinviati ma vanno ancora decisi e diano invece delle risposte ai pescatori innanzitutto nell'immediatezza ma all'intera città, all'intera comunità portuale. È stata chiaramente in una situazione molto difficile che noi abbiamo molto a cuore e sulla quale insomma ieri mattina abbiamo anche dimostrato credo in maniera molto concreta e fattiva l'interesse della regione per il porto di Viareggio ma soprattutto per la situazione difficile in cui si vengono a trovare i pescatori che non abbiamo assolutamente intenzione di abbandonare, anzi stiamo valutando con l'autorità portuale insieme al Comune e insieme anche a loro che abbiamo coinvolto al tavolo tecnico perché credo sia anche giusto che poi chi sta non sul campo in questo caso ma direttamente insomma vive il mare tutti i giorni debba essere anche ascoltato e considerato e questo credo sia un traguardo molto importante. Continueremo a lavorare, monitorare il tema della draga perché il tema dell'instabbiamento c'è, con finanziamenti anche cospicui, c'è un impegno della regione importante sull'insabbiamento quindi ecco io credo che stiamo andando in una direzione in cui ecco il porto tornerà ad essere un porto centrale perché poi Viareggio è effettivamente una piazza nazionale, è un porto nazionale con un'importanza anche internazionale e quindi da parte nostra c'è la massima attenzione sul monitoraggio dell'attività portuale, stare vicino ai pescatori e provare a rilanciarlo tutti insieme. Una valutazione politica è decollata davvero questa comunità portuale regionale? Beh credo che insomma dopo sono stati anni faticosi si viene da una situazione difficile come tutte le cose ci vuole il loro tempo mi rendo conto che chi lavora con la pesca poi ci mangia tutti i giorni tempo non ne ha però stiamo veramente correndo per rilanciarla anche il presidente è in prima linea c'è la giunta ci sono gli assessori ci siamo noi consigliari del territorio che ogni giorno pungoliamo e monitoriamo e quindi sì io credo che la direzione che si sia intrapresa sia quella di provare a rilanciare e ridare centralità al porto di Viareggio cosa che in passato effettivamente insomma quello è un comune che è stato commissariato è una città che ha avuto anche decenni difficili non si può pensare che decenni difficili si risolvano in un anno però l'attenzione in questa legislatura sulla provincia di Lucca e su Viareggio è massima lo garantisco perché tutti i giorni come consigliare di zona cerco di starci. Il nostro voto è stato contrario perché per due motivi di merito perché non condividiamo molte scelte e molti ritardi che ha accumulato l'autorità ma anche di metodo perché portare un bilancio preventivo 2023 quando siamo già nel 2024 segnala che in questa regione c'è un vizio patologico cioè l'impossibilità per i consiglieri di analizzare davvero e di indirizzare davvero i bilanci degli enti e questo forse è anche causa della situazione incredibile del porto di Viareggio per il quale all'interno del piano degli investimenti dell'autorità portuale era previsto già da anni la realizzazione del sabbiodotto che in realtà non è stato realizzato c'è stato un braccio di ferro lungo mesi e mesi fra la regione e il comune di Viareggio la sostanza è che il sabbiodotto non c'è, i pescherecci si incagliano e i pescatori non possono esercitare le loro attività economiche oltre che costituire un danno di immagine e di funzionalità assolutamente grave per tutte le altre attività. Per questo come Fratelli Italia abbiamo annunciato di presentare un atto di indirizzo per risarcire i pescatori e tutti coloro che hanno ricevuto un danno da questa evidente mancanza da parte dell'autorità portuale e diciamo di mamma regione perché non hanno in questi anni garantito ciò che si erano impegnati a fare cioè un sabbiodotto degno di questo nome e garantisca al porto di Viareggio di poter funzionare e di poter in qualche modo fare economia per la Toscana. Cambiamo argomento, il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza una risoluzione sul programma di attività dell'Agenzia regionale di Sanità, l'ARS, per il 2024. L'atto di indirizzo è stato approvato con 21 voti favorevoli PD, Italia Viva, Lega e il Movimento 5 Stelle, 5 voti contrari, quelli di Fratelli d'Italia e con il voto di astenzione della consigliera Anna Paris del Partito Democratico. Sentiamo le interviste ai consiglieri Sostegni e Ulmi. Sì, abbiamo approvato l'atto di indirizzo che serve appunto poi verrà ripreso da un'ulteriore delibera di giunta e che stabilisce l'atto con il quale si danno le indicazioni sull'attività di ricerca che l'Agenzia regionale dovrà svolgere in questo anno, cioè nel 2024. Un atto importante che ovviamente va in continuità con l'attività di ricerca che l'Agenzia regionale ha svolto nel 2023 e che ovviamente riguarda, come tutti i cittadini possono controllare semplicemente collegandosi al sito dell'ARS dove sono pubblicati tutti i documenti e i risultati delle attività di ricerca che vanno dai risultati sanitari dei nostri ospedali alle ricerche epidemiologiche, a un lavoro importante che tanti cittadini hanno conosciuto anche durante il Covid. Per noi l'Agenzia regionale di sanità è un punto di riferimento fondamentale perché tutte le decisioni politiche, anche fuori della sanità ma sicuramente in ambito sociosanitario, si devono basare su dati importanti, strutturati, ben calzati e calati sul territorio della nostra regione e quindi il lavoro dell'Agenzia è assolutamente fondamentale. Su ARTS è un organo molto importante che in Commissione noi abbiamo approvato e quindi poi abbiamo fatto voto favorevole in Aula, anche se ritengo che ARTS abbia un compito che ancora noi vorremmo affidargli e cioè questa sanità malata, lo dicono tutti, lo dicono i fatti, non possiamo pensare che possa essere modificata se non si cambia completamente i paradigmi. Per cui noi vogliamo una sanità basata sul valore, questo è un ordine del giorno che è stata approvata all'unanimità con l'ultima legge di stabilità e io ho una mozione in discussione adesso dove chiedo che ARTS si occupi di fare da capofila per studiare come cambiare i paradigmi sanitari da fee for service a fee for value, cioè non più la medicina basata sulle prestazioni ma la medicina basata sugli esiti della cura. Voltiamo ancora pagina, l'Avis Toscana, l'associazione volontari del sangue, ha consegnato a tutti i consiglieri regionali una shopper con materiale informativo e gadget per rilanciare la campagna di sensibilizzazione sulla donazione del sangue che nei giorni scorsi è risultata vincitrice della seconda edizione del premio La Toscana che fa bene, bandito dal Corecom in collaborazione con il centro servizi volontariato della Toscana. Sentiamo la presidente Avis della Toscana, Claudia Firenze. Un anno positivo perché bisogna sempre andare avanti e con l'impegno che abbiamo messo anche con la nuova campagna Mettiti in gioco, dona il sangue e dona il plasma, è il modo migliore per iniziare l'anno. Nel 2023 abbiamo tenuto, quindi questa è già una buona notizia, però venivamo da un 2022 abbastanza tragico, quindi non bisogna mai guardare sempre avanti e come si dice sempre noi donatori, rimborcarsi le maniche e donare sangue e plasma. Il premio del Corecom ovviamente ci ha riempito di orgoglio perché essere premiati a livello regionale con una campagna che aveva come scopo principale proprio quello di declinare il messaggio in tutti i territori della Toscana, ci è sembrato un buon modo appunto per iniziare questo 2024 che sarà pieno di iniziative, ci è sembrato anche carino omaggiare i nostri consiglieri regionali con un piccolo cadeau, col merchandising appunto della nostra nuova campagna Mettiti in gioco, dona il plasma e dona il sangue. Un dato particolarmente positivo è proprio quello sui nuovi soci perché i nuovi soci sono tornati a crescere, anche questo è un dato che ci conforta e i nuovi soci, gli under 25 la maggioranza addirittura sono donne e tra i nuovi soci la maggioranza sono giovani, quindi questo ci fa ben sperare, chiaramente bisogna essere attrattivi, bisogna parlare con i giusti messaggi, bisogna raggiungere i giovani là dove sono senza messaggi moralizzatori o che vengono troppo dall'alto ma con una comunicazione tra pari, semplice che possa dimostrare anche che si può fare volontariato, si può fare del bene, si può fare solidarietà in maniera semplice con il sorriso sulle labbra. Sicuramente gli orari di apertura perché chiaramente si dona soprattutto la mattina, ci sono anche delle sperimentazioni con delle giornate più lunghe o dei pomeriggi però ancora c'è una sorta di timore reverenziale ad andare a donare in altri orari che non siano la mattina però anche con la regione toscana, con il centro regionale sangue stiamo lavorando per cercare di sperimentare anche degli orari diversi, differenti perché si può donare benissimo anche il pomeriggio, si può donare anche tutto il corso della giornata, chiaramente va preso qualche piccolo accortezza, una colazione di un certo tipo, un cibo di un certo tipo però sono cose assolutamente normali, ricordo che per donare sangue e plasma bisogna essere maggiorenni, pesare almeno 50 kg e godere di buona salute. Incentiviamo sicuramente anche le donazioni durante i fine settimana, è importante così come le incentiviamo per esempio durante anche l'estate ed è importante soprattutto la prenotazione perché se si prenota la donazione si aspetta meno quindi entra un po' in quella buona abitudine che tutti noi abbiamo quando facciamo le cose di tutti i giorni dalla parrucchiera o al come posso dire qualsiasi punto dove si va con un appuntamento anche prendere l'appuntamento per donare sangue e plasma è importante anche perché si aiuta la programmazione perché se io so quante sacche di sangue e di plasma ho di un certo gruppo sanguigno posso anche organizzare per esempio le sale operatorie in questo senso e quindi tutto il sistema sanitario toscano e non solo ne beneficia. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, grazie per l'attenzione e buona serata.